Il primo ambulatorio di prevenzione oncologica della Lilti che potranno essere utilizzate in parte per altri scopi sanitari dall'azienda territoriale con indubbi vantaggi per la collettività catanzarese che a suo tempo contribuì effettivamente per la raccolta dei fondi necessari per l'acquisto del mammografo con sviluppatrice digitale. Oltre al mammografo l'ambulatorio sarà dotato anche di un ecografo. È un servizio veramente importante per la collettività e soprattutto per garantire al meglio e di più quello che è il diritto fondamentale della persona che è il diritto alla salute. Grazie.